Siamo in un santuario dedicato a San Pio da Pietrelcina, come ci insegna Padre Pio quando tante volte andavano da lui gente, diceva Padre non c'ho il lavoro, Padre sto male prega, prega, diceva Padre Pio, data la preghiera. Padre Pio non era un grande, era un semplice contadino parlava pure il dialetto, ma Padre Pio si è distinto per il sacrificio e la passione per il Vangelo e amava tantissimo per esempio San Paolo, lui citava spesso, per chi ha letto le sue lettere, spesso citava San Paolo si uniformava quasi a quel carattere passionale di San Paolo per il Vangelo, per annunciare Cristo per annunciare l'amore di Dio a tutti gli uomini ed era una persona vera. Padre Pio non era una persona che diceva cose che per accaparrarsi il buon giudizio degli altri, no, Padre Pio era una persona vera era un uomo vero, che non solo ha pregato, un uomo di grande preghiera, diceva Fra Modestino che Padre Pio ha passato più notti davanti a Gesù sacramentato che nella sua cella, quindi era un uomo di preghiera profondo, ma non solo, era un uomo di sacrificio perché ascoltava gente tutti i giorni, ore e ore la dedizione agli ammalati, questo significa vivere il Vangelo.